Esercizi in assonometria semplici su fogli a quadretti e solo con un righello Disegniamo un cubo in assonometria La faccia anteriore del cubo non è deformata nell'assonometria cavaliera Disegnala quindi tracciando un quadrato di lato 5 cm Dalla faccia anteriore traccia le profondità inclinate a 45 gradi Cioè l'inclinazione delle diagonali dei quadretti Tutte le profondità sono di 2,5 cm La metà dello spigolo del cubo Traccia ora gli spigoli mancanti, paralleli e quelli già tracciati Gli spigoli a vista vanno ricalcati Mentre quelli che non sono a vista vanno tratteggiati Le lettere devono essere inserite a partire dall'incrocio degli assi assonometrici In senso anti-orario E verso l'allontanamento dal punto dell'incrocio La lettera H è riservata alle altezze La faccia anteriore dei solidi, parallela al piano XZ Non è deformata nell'assonometria cavaliera Disegnala quindi tracciando un rettangolo di 5 cm per 8 cm Ai vertici della faccia anteriore Traccia le profondità inclinate di 45 gradi Ovvero segui le diagonali dei quadretti Tutte le profondità sono di 2,5 cm La metà dello spigolo di base Traccia gli spigoli mancanti, paralleli a quelli già tracciati Gli spigoli a vista andranno poi ricalcati Mentre quelli non a vista vanno tratteggiati Disegniamo ora una composizione formata da una base a forma di parallelepipedo Sormontata da una piramide Disegna la base, un parallelepipedo Seguendo le istruzioni precedenti Ma questa volta con le misure di 5 cm per gli spigoli di base E 3 cm per l'altezza La base superiore del parallelepipedo Corrisponde alla base della piramide Occorre tracciare l'altezza per poter trovare il vertice V E quindi le facce della piramide L'altezza cade al centro della base Che si trova tracciando le diagonali Traccia l'altezza, leggera come tutte le costruzioni Di 8 cm per trovare il vertice V Traccia gli spigoli laterali Con delle linee che partono dal vertice V Fino a ciascuno dei vertici di base Ricalca gli spigoli a vista E tratteggia gli spigoli nascosti Disegniamo ora un prisma a base esagonale Dallo spigolo di base di 2 cm E dall'altezza di 7 cm Per poter disegnare in assonometria cavalieri Un prisma a base ottagonale, esagonale, pentagonale o triangolare Occorre prima disegnare nella base Per poter misurare la profondità del solido La profondità effettiva andrà dimezzata nel disegno assonometrico La semia profondità andrà a misurare sull'asse Y Delle profondità È facile disegnare un esagono col solo righello sul foglio a quadretti Sfruttando una griglia di costruzione Comincia tracciando il lato AB lungo 2 cm O A è la metà del lato AB Misura quindi un centimetro a destra di AB E traccia in quel punto una linea leggera Ripeti a sinistra L'esagono è composto da due lati orizzontali e quattro inclinati di 60 gradi Tracci il lato obbligo da A lungo 2 cm Inclinando il righello finché i 2 cm non toccano l'asse verticale Sarà così inclinato di 60 gradi Ripeti da F' e poi da B fino alla costruzione verticale Traccia le linee di costruzione orizzontali Completa i lati sempre lunghi 2 cm paralleli E dai vertici allineati a 2 a 2 Traccia tutte le linee di costruzione delle profondità Tutte le profondità sono parallele all'asse Y e inclinate di 45 gradi Segui le diagonali dei quadretti Misura metà della profondità del solito O1 Sull'asse Y corrispondente alla profondità totale in assonometria cavaliera In quel punto traccia la linea di costruzione parallela all'asse X delle larghezze Traccia un'altra linea di costruzione orizzontale a metà della profondità in assonometria Ribalta graficamente l'esagono di costruzione nella griglia assonometrica Individua i vertici di base e collegoli con delle linee in modo da formare la base in assonometria Traccia tutte le altezze delle linee verticali alte 7 cm da ciascun vertice di base Traccia tutti gli spigoli della base superiore collegando le estremità di tutte le altezze con delle linee Ricalca gli spigoli a vista e tratteggia quelli nascosti Disegniamo una piramide a base esagonale dallo spigolo di base di 2 cm e dall'altezza di 7 cm Disegna la base come nell'esempio precedente Per velocizzare puoi disegnare semplicemente il lato AF1 come indicato nell'esempio precedente Per disegnare una piramide occorre trovare il centro della base dove cade l'altezza del solido Traccia quindi le diagonali della base in assonometria Dal centro della base H traccia l'altezza verticale lunga 7 cm Traccia tutti gli spigoli laterali collegando il vertice V con delle linee ad ognuno dei vertici di base Calca gli spigoli a vista e tratteggia quelli nascosti Disegniamo un prisma triangolare La base è un triangolo equilatero con uno spigolo di 4 cm L'altezza del solido è 8 cm Per poter disegnare in assonometria cavaliere un prisma a base triangolare occorre prima disegnarne la base per poter misurare la profondità reale e quindi riportarne alla metà sull'asse Y Disegna il lato del triangolo di base con una linea orizzontale di 4 cm Il triangolo equilatero è simmetrico e ha tutti i lati uguali Disegna i lati obliqui che devono partire dal vertice Cu' e B' essere lunghi esattamente 4 cm e toccare l'altezza Disegna prima l'altezza e poi i lati obliqui di 4 cm come in esempio Traccia poi la costruzione e gli assi come in esempio Traccia le linee di costruzione delle profondità parallele all'asse Y e inclinate di 45 gradi Segui le diagonali dei quadretti Occorre ribaltare il triangolo di costruzione sul piano assonometrico XY come in esempio Traccia tutte le altezze verticali e lunghe 7 cm Collega con delle linee tutti gli estremi delle altezze ottenendo la base superiore triangolare Ricalca gli spigoli a vista e tratteggia quelli nascosti Disegniamo un prisma a base ottagonale Lo spigolo di base è 2 cm e l'altezza è 8 cm Per poter disegnare in assonometria cavaliero un prisma a base ottagonale, esagonale, pentagonale o triangolare occorre prima disegnare nella base per poter misurare la profondità del solido La profondità effettiva andrà dimezzata nel disegno assonometrico La semia profondità andrà a misurare sull'asse Y delle profondità L'altezza è composta da due lati orizzontali, due verticali e quattro inclinati di 45 gradi Traccia lo spigolo di base orizzontale di 2 cm Traccia poi uno spigolo inclinato di 45 gradi, sempre di 2 cm Traccia quindi uno spigolo verticale, sempre di 2 cm e continua fino al completamento della figura Misura le profondità da O a 1, da 1 a 2, da 2 a 3 Sull'asse Y fai un puntino in corrispondenza alla metà di ciascuna delle misure delle profondità Tutte le profondità sono parallele all'asse Y Quindi sono tutte inclinate di 45 gradi Segui le diagonali dei quadretti Tutte le larghezze sono parallele all'asse X Quindi orizzontali Immagina di ribaltare l'ottagono di costruzione sulla griglia assonometrica e disegna la base nella deformazione assonometrica Per completare il prisma traccia tutte le altezze da ogni vertice di base verticali e di 8 cm Disegna la base superiore congiungendo tutti gli estremi delle altezze Ricalca gli spigoli a vista e tratteggia quelli nascosti Qualche trucco Larghezze e profondità sono uguali Puoi evitare di disegnare tutto l'ottagono C'è una proporzione tra OA e AB OA è circa 3 quarti di AB AB è 4 quadretti uguale a 2 cm OA è 3 quadretti quasi radice quadrata di 2 uguale a 1,4 cm Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti